Musica Ah, sto registrando, buonasera, buonasera a tutti Annuncio della sera Allora, il giorno 26 maggio ci sarà l'inaugurazione della US Record Vi ricordo di non mancare, ci sarò io, il make-up artist di fiducia di Umberto Santermo e la signorina Serena Nardi E che dirvi, ragazzi con me vi porterò anche la bellissima e splendissima e anche fighissima altra me, zia Wilma Ci divertiremo tantissimo Ragazzi, non mancate, perché sinceramente a dirla tutta Ci ha mai divertì Bella che la faccia bella, con l'occhio bello Russell Sì, venite il 26 di maggio alla US Record Inaugurazione della US Record Baci